Quando io e tuo zio cercavamo il crescetto delle tenebre, trovare te è stata la cosa più bella che potesse capitarmi. Vai! Ehi là! Hopper! Andiamo! Ho sempre desiderato un'avventura. Io sono Meg. Seguitemi. Vai! E ve la caverete. Per entrare nel tempio bisogna superare le tre prove mortali. Non possono essere due le prove. Hopper è il tempio perduto. Tu hai le ali, vero? Non posso volare. Puoi volare! Al cinema.